Puntare su un'aslo unica per salvare il nostro commio di Sulmona. Ne convinto il sindaco Peppino Ranalli che ha rilanciato il piano salva ospedale nel corso di un vertice che si è tenuto sabato scorso nel capologo adriatico con il manager dell'aslo 1 Avezzano Sulmona L'Aquila Giancarlo Silveri, l'assessore regionale alla sanità Silvio Valucci, il presidente della provincia dell'Aquila Antonio De Crescentis e i sindaci di Popoli e Cassel di Sangro. Ci siamo seduti tutti intorno a un tavolo per esaminare il decreto Lorenzin per capire quale impostazione la regione vuole dare alla riorganizzazione della sanità in Abruzzo, riferisce Ranalli nella trasmissione di Onda TV, chiedetelo al sindaco. Io ritengo che quella dell'aslo unica sia la soluzione più opportuna. Il nostro presidio ospedaliero arriverà a un bacino di utenza di 80.000 abitanti e solo in questo modo potremo consolidare i nosocomiti sul Monapopoli e Cassel di Sangro ribadisce il primo cittadino. Nel corso dell'incontro la regione Abruzzo ha ribadito la ferma volontà di uscire dal commissariamento per compiere delle scelte autonome sul fronte della sanità. Il sindaco Ranalli ha parlato infine anche di un eventuale consiglio comunale straordinario su sanità e declassamento che doveva essere convocato in settimana e che ora slitterà la prossima prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2015. È importante che l'assizio civica prenda una chiara posizione sull'ospedale di Sulmona, sulla disattivazione del punto nascita e sul declassamento da polo d'attrazione ad aria intermedia, conclude Ranalli.